Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, Paul Position in MotoGP per Paul Espargarò, Paul Position in Moto2 per Marco Bezzecchi, Paul Position in Moto3 per Romano Fenati. Tanti gli aspetti interessanti immersi in questa giornata di qualifiche, disputata ancora una volta con l'Asciutto, una particolarità qui a Silverstone, io come al solito scelgo i tre temi che secondo me sono quelli più importanti di questa giornata. Il primo tema è naturalmente la Paul Position di Paul Espargarò, ma è soprattutto il cambiamento di prestazioni che avviene in questa MotoGP da un Gran Premio all'altro. Soltanto nell'ultimo Gran Premio, soltanto un Gran Premio fa, Paul Espargarò era in grandissima difficoltà, in Austria è stato lentissimo sia in qualifica sia in gara. Qui fa la Paul Position e ha un buon passo. Cosa è cambiato? Naturalmente è cambiato il grip dell'asfalto, è cambiata la pista ovviamente, la moto evidentemente si adatta meglio, ma basta veramente pochissimo per passare da ultimo o quasi ultimo a primo, perlomeno in qualifica. Ecco, secondo me questo è un aspetto molto importante. Il secondo tema, secondo me, è legato un po' a questo aspetto e sono le prestazioni di Valentino Rossi. Valentino Rossi, ottavo, non è la sua miglior qualifica stagionale perché ad esempio in Qatar era partito quarto, ma è sicuramente la giornata più convincente di Valentino Rossi dall'inizio dell'anno. Anche lui fino a poco fa sembrava in grandissima difficoltà, lottava per la tredicesima, quattordicesima, quindicesima posizione, adesso ottavo e anche lui ha un buon passo per potersela giocare magari nei primi sei. Sarebbe un grande risultato. Ecco, anche nel suo caso si vede come basta poco per passare da un pilota che tanti considerano ormai pronto solo per la pensione, a un pilota che invece esalta ancora ed è capace di guidare ed è capace di portare la M1 comunque a un grandissimo livello. Ecco, questo secondo me deve comunque far pensare a tanti che criticano comunque Valentino Rossi. Il terzo tema che voglio condividere con voi è il grandissimo cambiamento di Romano Fenati. Romano Fenati sappiamo tutti cosa è successo qualche anno fa a Misano in Moto2, era diventato l'uomo nero della MotoGP, io stesso l'avevo criticato, MotoGP inteso come campionato del mondo di velocità, io stesso l'avevo criticato molto dopo quell'episodio. Ecco, Romano non solo è stato capace di tornare comunque in moto, ha avuto la possibilità di tornare in Moto3, è tornato a fare il pilota, ma adesso è diventato addirittura un esempio della Moto3. È il pilota più corretto che c'è in Moto3, è l'unico pilota che non cerca mai una scia, non fa mai un sorpasso azzardato, se fa un sorpasso è perché sa di poterlo fare, ne fa di spettacolare addirittura all'esterno, ma non fa assolutamente niente fuori dalla correttezza. Bravissimo Romano, non soltanto in pista, ma anche fuori dalla pista, è diventato un esempio per tutti, per me è da sottolineare e da rimarcare. Bravo Romano!